Ora, il segreto della buca del mulino è quello di... Non colpire le pale. Tombolino! Ma che strano. Non è uscita dall'altra parte. Rod, tu hai la manina piccola da femminuccia. Infilala dentro e ripescala. Una mano! Ai! Papa, qualcosa mi ha aggredito! Andiamo, Rod, è solo una pallina incastrata. Va bene, la prendo io. La pallina ha baridato, eh? Ti aiuto. Smettila di pavoneggiarti, Seymour, la prendo io. C'è qualcosina qui dentro. Sembra un sacco pieno di carne. Stiamo intrappolati. Non posso saltarla questa buca. Avanti, papà, infilala tu la mano e senti che cos'è. C'è proprio qualcosina qui dentro. Forse sono regali per tutti noi. Può essere qualunque cosa. Dall'odore sembra un orso. Chi se ne frega di che cos'è? Monossidiamola! Perché la gente cerca sempre di ammazzarmi? Dobbiamo andare via di qui. Erano proprio delle personcine. Hanno profanato il nostro verde. Ed ora sono là fuori. Tutti nudi come Dio li ha fatti. Che vergogna! Però non ero, Carmine. Quelli escono solo di notte, o in questo caso, o in pieno giorno. Li deve acciuffare. Eh sì, ai bambini. Qualcuno per favore vuole pensare ai bambini, no? E va buono, va buono. Ecco qui, Rex. Annusa bene. Poverillo. Gli mancava solo un giorno alla pensione. Gli mancava solo un giorno alla pensione.